Ciao a tutti, in questo video voglio fare un po' di chiarezza sull'elio. Prima però di proseguire con il video ricordo a chi è interessato che abbiamo sempre il nostro corso online disponibile sul sito e abbiamo pubblicato le date di giugno che sono ancora disponibili, quella del 15 e quella del 19. Come sempre l'insegnante del corso in presenza sono io e quindi che dire vi aspetto. Adesso andiamo al soggetto del nostro video, quindi parliamo dell'elio. Sappiamo benissimo che per far volare i palloncini serve l'elio. Possiamo fare sperimentazioni e serve l'elio. L'elio però è un gas molto caro, un gas nobile. Ovviamente in questi nove anni di attività li abbiamo sentiti veramente di tutti i colori, viste di tutti i colori. Purtroppo abbiamo constatato che questa idea c'è ancora perché in alcuni commenti, in alcune chat direct che abbiamo si insiste su sta cosa che ci vogliono questi compressori appositi che buttano fuori l'elio. Se non abbiamo la bombola attaccata l'elio non esce. Questo è un compressore che è adatto per essere attaccato alla bombola di elio e mi gonfia i palloncini quindi con l'elio. Finito l'elio non lavora più. Questi invece sono compressori semplici ad aria. Cosa ha di particolare questo qua? È perché ovviamente lo consigliamo vivamente per chi ovviamente lo fa di professione. Anche perché non ha un costo indifferente. Nel tempo ovviamente utilizzando prodotti professionali come questo riusciamo a diminuire gli sprechi. Questo va attaccato alla bombola di elio. Qua si calcolano il tempo di gonfiaggio. Viene poi calcolato anche quanti pezzi stiamo facendo mentre lavoriamo. E ovviamente non c'è dispersione. Quindi questo è un fattore molto importante. Il tempo ovviamente ci serve per capire in quanti secondi c'era o gallerio in base alla misura che vogliamo del palloncino. In più una cosa bellissima è che una volta che noi impostiamo il tempo che ci serve tutti i palloncini verranno fuori uguali. Quindi non avremo quell'effetto ad occhio un po' grandi e piccoli. I palloncini saranno tutti identici. Quindi è un prodotto che consiglio vivamente a chi fa questa attività o chi comunque la vuole intraprendere. E ovviamente lo ammortizzate nel tempo anche solo con lo spreco che non andate a fare. Questo sarà disponibile a breve sul nostro shop online che come vi avevo già accennato a luglio apriremo il sito ingrosso e quindi lo potrete acquistare lì. Per ora se foste interessati comunque potete contattarci via WhatsApp e si vede insomma di procurarvelo. Quindi ricordate questi sono adatti solo per il gonfiaggio ad aria mentre invece questo per l'elio. Ovviamente attaccato alla bombola di elio. Ciao spero di essere stata chiara e alla prossima!